Musica Prenotate le vostre vacanze in Italia. Il presidente Draghi apre ai turisti di tutto il mondo e annuncia che a fine maggio sarà disponibile il pass vaccinale per muoversi liberamente in tutto il paese. Cala il tasso di positività, l'Italia corre sulla strada dei vaccini, oltre 21 milioni di italiani hanno ricevuto almeno una dose. Nuove regole per le RSA che a maggio riapriranno le visite ai parenti, finisce un lungo isolamento per gli anziani che potranno incontrare i loro cari in sicurezza anche in spazi aperti. In Duomo a Milano fino al 9 luglio lettura integrale della Divina Commedia proposta dalla Veneranda Fabbrica per i sette secoli dalla morte di Dante, da lunedì a venerdì appuntamento in cattedrale e sui social. Buonasera, allora l'Italia riapre ai turisti di tutto il mondo e il presidente Draghi li invita affinché tornino a prenotare le loro vacanze da noi. Intanto a maggio arriva la carta verde per potersi spostare tra le regioni. Augusto Cantelmi. Quindi è arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia. E naturalmente non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo. Grazie. Il mondo vuole viaggiare in Italia e l'Italia è pronta a dare il benvenuto al mondo prenotate le vacanze in Italia. Un invito più che un auspicio è quello del presidente del consiglio Draghi nel corso del summit del G20 sul turismo. Dalla seconda metà di maggio infatti sarà pronto il pass per muoversi liberamente tra le regioni italiane. Se vaccinati, tamponati entro le 48 ore o guariti è da metà giugno l'arrivo del Green Pass europeo. Veniamo all'immediato futuro. Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici, per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza. E sul turismo il governo promette nuovi interventi nel decreto imprese in lavorazione a Palazzo Chigi. Mentre in addirittura d'arrivo l'altro decreto, il sostegno 1, da 32 miliardi. Domani al Senato il voto di fiducia. Tra le novità, aiuti ai genitori separati in difficoltà. Stop alla prima rata del mutuo per le attività con un calo del 30% del fatturato e proroga dell'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico. Intanto, dopo l'addio a quota 100 sulla riforma delle pensioni su cui lavora il governo, arriva la proposta dei sindacati che chiedono maggiore flessibilità in uscita a partire dai 62 anni di età e con 41 anni di contributi. Tutto questo mentre la campagna vaccinale prosegue la sua corsa. Sono oltre 21 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose. intanto i dati ci dicono che oggi il tasso di positività è in discesa. Letizia Davoli. Nuovi positivi sotto quota 10 mila per il terzo giorno consecutivo. 9 mila infatti oggi in nuovi casi contro i 5 mila e 900 di ieri ma con più del doppio dei tamponi, 315 mila. Crolla così il tasso di positività dal 4,9 al 2,9%, il valore più basso da quando a gennaio sono stati introdotti nel conteggio, anche i test antigenici. Salgono però i decessi da 256 a 305 in calo i posti letto occupati in terapia intensiva e ordinaria. La pandemia dunque si conferma in frenata anche grazie ai ritmi serrati della campagna vaccinale. Quasi 21 milioni e mezzo le somministrazioni e 6 milioni e mezzo gli italiani vaccinati con doppia dose. Numeri che hanno portato dal 10 aprile ad un meno 26% di decessi, meno 34% di ricoveri ordinari e meno 31% di ricoveri in terapia intensiva. A comunicarlo il commissario dell'emergenza generale Figliuolo che ha ribadito che la priorità resta la messa in sicurezza degli over 60. Tuttavia è possibile iniziare a pensare ad aprire la vaccinazione di massa almeno nelle isole. Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani, dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera e quindi parlo di Lampedusa e Linosa. In questo fine settimana vaccineremo quei cittadini dai 18 anni in su e poi passeremo alle altre isole. A rallentare la campagna la diffidenza ancora diffusa verso il vaccino AstraZeneca. Due milioni le dosi nei frigoriferi che comprendono però molte seconde dosi e quelle per gli over 65 ancora in attesa della prima. Ma a Napoli in un hub vaccinale è dovuta intervenire la polizia davanti alla pretesa anche violenta di alcuni utenti che volevano scegliere il siero con cui vaccinarsi. Sentiamo adesso le persone che oggi sono andate a farsi vaccinare. Luca Alicata le ha incontrate a Roma. La gente è molto diffidente, diffidente alle cose che si sono dette per televisione, quell'incomprensione che sono state e che poi non tutti capiscono nel modo giusto. Come è andata? Bene, pensavo molto peggio, chissà che effetti particolari invece al momento. Al momento stiamo bene. Siamo nel hub vaccinale della stazione Termine Roma. Anche oggi, nonostante il tempo incerto, sono proseguiti gli appuntamenti. Qui si vaccina unicamente con dosi di AstraZeneca. È la prima dose, però avevo in mente tanta paura che poi alla fine è una stupidaggia, però bisogna vaccinarsi. Tutto bene, velocissimi, apposta. Mi sento un po' più sollevato. Oddio, aspetterò il secondo richiamo per sentirmi meglio, però tutto sommato mi sento un po' più sollevato. Ho appena compiuto 60 anni, quindi sono contento di essermi vaccinato. Bene, io mi sono trovato bene, prenotato, tutto in ordine. Hanno detto che però fino alla seconda dose ancora non è detto che siano sviluppati gli anticorpi. Vedono intensificarsi i colleghi che già si sono vaccinate, anche prima di me, o amiche che si stanno vaccinando. Intanto, sempre a termini, proseguono i tamponi rapidi gratuiti nel hub della Croce Rossa. Adesso in Lombardia, a Lodi, un anno fa, prima zona rossa d'Italia, ieri senza contagi. Il servizio di Luciano Piscaglia. Un anno fa è stata la prima zona rossa d'Italia, ieri Lodi è stata la prima provincia a scrivere zero nella casella dei nuovi casi positivi. Ed è la prima volta che accade dall'inizio della seconda fase della pandemia. Ma che non ci deve far abbassare la guardia, assolutamente, in quanto questo trend è anche legato al fatto che siamo stati molto bravi a seguire le regole di distanziamento che ci hanno consentito di limitare in maniera importante i contagi. Oggi, in tutta la provincia, si sono registrati 31 nuovi casi, ma la diffusione della pandemia è in calo e la prima conseguenza è la riconversione dei reparti ospedalieri. Noi abbiamo già ripreso, a dire la verità, nella seconda ondata e anche nella terza non abbiamo mai ridotto completamente le attività ambulatoriali, abbiamo sempre gestito. Abbiamo però da perseguire perché esistono ancora le altre malattie. E vediamo, e questo me lo confermano anche altri ospedali, che i pazienti per lungo tempo non si sono curati e quindi adesso quando arrivano non sono in condizioni ottimali. Intanto procede la campagna vaccinale. 61.000 lodigiani hanno ricevuto la prima dose del vaccino. 23.000 hanno completato la vaccinazione. Diciamo che questo modello organizzativo, se riusciamo a tenerlo, e sicuramente come ci siamo organizzati ce la faremo, entro la fine di giugno, massimo metà luglio, riusciremo a vaccinare tutta la popolazione dell'Odigiano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al Corpo. A loro il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi così complessi e difficili, ma ascoltiamo le parole del Presidente. Da oltre un anno l'Italia e il mondo intero è colpito dalla violenza della pandemia e l'Esercito ha assicurato al nostro Paese un contributo davvero particolarmente importante, confermando di essere una risorsa preziosa per la vita del nostro Paese. L'Esercito ha messo a disposizione risorse sanitarie specialistiche, strutture per la quarantena, ospedali da campo, impianti di produzione, mezzi logistici, unità operative per la sicurezza delle strade e delle aree sensibili. Molte unità sono state impegnate per distribuire dispositivi di protezione sanitaria all'operazione, per distribuire le rate alimentari quando necessario e molte unità hanno concorso alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini. Adesso vi parliamo di uno studio condotto dall'Università di Tor Vergada sulle persone che presentano una sorta di immunità innata nei confronti del Covid-19, al punto da non rimanere infettate nemmeno a stretto contatto con il virus. Maurizio Dischino. Resistenti, non immuni. Così bisogna chiamare quelle persone che non si infettano pur essendo a stretto contatto con positivi al coronavirus. All'Università di Roma 2 Tor Vergata, il Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico, sta studiando il DNA di questi soggetti. L'equipe italiana sta lavorando insieme ad altri laboratori stranieri, coordinati dalla Rockefeller University di New York. Questa è un'attesa importante per noi perché la prima osservazione importante che abbiamo fatto è che quando un virus entra, attiva dei sensori che poi innescano la risposta iniziale, la prima linea di difesa, che è dovuta soprattutto alle molecole di interferone che si producono, che è il primo antivirale naturale. Abbiamo infatti scoperto che ci sono persone che sono geneticamente incapaci di dare questa risposta. Allora il dubbio è, i resistenti sono forse quelli che hanno una risposta maggiore di interferone, hanno una capacità, diciamo, di sensori più attivi? È possibile. Questo deve emergere dallo studio su grandi numeri. Qual è l'obiettivo che vi state prefissando in questo percorso? A che cosa deve portare? Fornire risposta alla biologia del virus e poi successivamente scoprire degli antivirali di cui ne abbiamo bisogno perché i vaccini da solo non bastano e non basteranno. Le RSA riaprono a parenti e visitatori, nel rispetto di direttive però molto severe e rigide. Vediamo quali nel servizio di Silvio Vitelli. Ingresso possibile solo a visitatori in possesso della certificazione verde Covid, il cosiddetto passaporto vaccinale, è l'indicazione principale delle linee guida per le RSA che saranno discusse domani in conferenza delle regioni. I comitati dei familiari degli ospiti di queste strutture lamentano da tempo l'impossibilità di vedere i propri cari a causa delle restrizioni anti-Covid. Appena una settimana fa un'indagine della comunità di Sant'Egidio aveva rivelato che due residenze su tre non ammettono visite e che soltanto due su dieci si sono dotate della cosiddetta stanza degli abbracci. Se saranno approvate le nuove linee guida prevederanno che la struttura garantisca una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata, non più di due visitatori per ospite e per una durata definita. Andrà garantito un distanziamento di almeno un metro, due se lo scenario epidemiologico lo richiederà. Sconsigliato l'accesso ai minori per i quali non sia possibile garantire il rispetto di queste misure, consigliati invece gli incontri in spazi aperti. L'uscita programmata degli ospiti dalle strutture richiederà una specifica autorizzazione da parte delle direzioni sanitarie. Norme che dovranno comunque tenere in considerazione le condizioni dell'ospite e del visitatore, nonché le caratteristiche logistiche della struttura stessa e le mutabili condizioni epidemiologiche. L'economia reale, quella che crea lavoro, è in crisi. Tanta gente senza lavoro, mentre i mercati finanziari non sono mai stati così ipertrofici come sono ora. È dalla constatazione della lontananza del mondo della grande finanza della vita della maggior parte delle persone che si sviluppa la riflessione di Francesco nel video con l'intenzione di preghiera per maggio dedicata a questo mese al mondo della finanza. Il Papa mette prima di tutto in guardia sui pericoli legati alla speculazione, esortando a intervenire. La crisi sanitaria è quella sociale. Il Cardinal Bassetti a Perugia per i cento anni della rivista San Francesco invita a farsi carico delle due emergenze che l'Italia sta affrontando con un pensiero particolare ai giovani. Il servizio di Nicola Ferrante. È la piazza di Perugia a ospitare un nuovo appuntamento in occasione dei cento anni della rivista San Francesco. Il dialogo ripercorre i temi dell'attualità legati alla pandemia, ma anche quelli sociali, il lavoro, la giustizia. La giustizia è servire il prossimo. Applicare la giustizia in maniera cruda si fa un'ingiustizia. Dal Presidente c'è un richiamo sulle priorità che attendono risposte. Ma bisogna stare attenti alla pandemia del cuore. Bisogna stare attenti a non chiuderci nei nostri egoismi, a non essere nemmeno invidiosi del bene degli altri, perché sennò non si costruisce nemmeno il nostro. Questo è un momento in cui bisogna essere estremamente aperti. Piazze che uniscono nel nome dello sport, ma sollevano indignazione per il mancato rispetto delle norme sanitarie. Il risultato è che poi la gente non ne può più e magari si assembra in Piazza del Duomo per festeggiare la vittoria dell'Inter, cosa che è stata, ahimè, un po' imprudente. Con tutto il rispetto per gli interisti, cui vanno i miei complimenti. Piazze in attesa che l'arte e la musica possano tornare presto ad animare la vita delle città. È stato un anno doloroso, complicato. Per qualcuno è stato un anno di disperazione. Tuttavia, come dicevano i greci, dopo l'acqua torna sempre il sole. Riaprono molti musei italiani, dagli uffizi di Firenze alla Pinacoteca di Brera, fino ai Musei Vaticani. Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso e mascherine. Il distanziamento di oltre un metro sono le norme per i visitatori. Fabio Bolzetta. È il clavigero a riaprire il portone in bronzo. I musei vaticani, dopo la terza chiusura imposta dalla pandemia, tornano da ieri ad accogliere i visitatori. Il terzo museo più visitato al mondo schiude il proprio scrigno di bellezza, arte, storie e fede sul territorio della città del Vaticano, ma abbracciato dalla città eterna. E così, con il flusso di visitatori stranieri, frenato dalle restrizioni ai viaggi, sono proprio i romani i primi a riscoprirlo. Abbiamo colto a balzo, quindi siamo contentissimi, vediamo l'ora. Per gli oltre 7 chilometri di percorso, sono stati introdotti nuovi orari e modalità di accesso, con visite contingentate e solo con prenotazione, termoscanner all'ingresso e mascherine ben indossate e obbligatorie per tutta la durata della visita, anche i giardini. Più volte è stato detto che bisogna nutrire non soltanto le persone, quindi i supermercati e i negozi alimentari devono essere aperti, ma anche bisogna nutrire l'anima. A Firenze 14 nuove sale accolgono i visitatori degli uffizi, corrono le prenotazioni circa mille al giorno. E intanto a Capri la celebre Grotta Azzurra, la cavità carsica, uno dei simboli naturali dell'isola, torna ad essere attraversata dall'uomo, una boccata d'ossigeno anche per il turismo. La grotta, vedi, senza barca. È bella però non... come si vuol dire non balla. E nella prova della pandemia si guarda ad un turismo rinnovato. Sono un po' le ansie che sono maggiori perché ovviamente c'è un'incertezza diffusa. Turismo però è un turismo diverso. Se è un turismo meno affollato e più tranquillo, ancora meglio. Gli stati membri dell'Unione Europea hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come le tarme della farina. È il primo via libera dell'Unione a un insetto come alimento a seguito di una valutazione scientifica. A Milano, in Duomo, 50 serate per celebrare i sette secoli della morte di Dante Alighieri, servizio di Pier Achille Dolfini. Tutta la Divina Commedia è in 50 sere. Il Duomo di Milano riparte da Dante per tornare a rivedere le stelle dopo i mesi bui della pandemia. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Inizia dai versi più famosi della storia della letteratura, la maratona tra inferno, purgatorio e paradiso che segna la riapertura degli spazi museali del Duomo che per le chiusure dovute al Covid hanno visto i turisti passare dai 2 milioni e mezzo del 2019 ai 600 mila dello scorso anno. Dante va letto come un profeta. Dante si sente profeta. La poesia è il linguaggio della profezia. L'Alexio Magistralis di Massimo Cacciari introduce il viaggio nella città dolente. Poi la voce di Massimiliano Finazzer Flori per le terzine dantesche dei primi due canti, Simone Groppo al violoncello per Bach, le immagini delle tavole di Amos Nattini custodite nella biblioteca ambrosiana a contrappuntare le parole. 500 persone tra le navate, molte quelle collegate sui canali social e TV del Duomo. E poi che mosso fu in trai per lo cammino alto e silvestro. Un cammino verso l'amor che muove il sole e le altre stelle. È tutto adesso. Il meteo, quindi TGTG con Federico Plotti. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi